C come Camporeale, C come Casarano, C come Capozza. La Vigortrani si conferma in vetta la classifica a punteggio pieno dell'eccellenza di Puglia. Espugna l'ostico domicilio dei Salentini e condivide la leadership in campionato insieme al Gallipoli a quota 6. Un gol basta e avanza la formazione bianca-azzura per tornare a casa con l'intera posta in palio. Lo realizza Pietro Camporeale in apertura di ripresa. Su un traversone proveniente dal settore sinistro, il centrocampista della Vigor indovina la soluzione vincente di testa e con una traiettoria beffarda sorprende in questo modo Montagnolo, l'estremo dei padroni di casa. Gara complessivamente nervosa, in particolar modo nel corso della ripresa. L'undici di Pietro Sportillo prova a fare la partita ma non riesce a sviluppare un gioco lineare ed efficace. Proteste del Casarano per un gol annullato allo russo per fuorigioco ad un quarto d'ora dal termine. Tre i cartellini rossi nel computo totale sventolati dal direttore di gara e il signor Palmieri di Brindisi. Due per i salentini, Schirinzi e Strignano e Telera per i tranesi.